Il gruppo tamburi combattenti, i pazienti e le famiglie della struttura complessa del reparto di ematologia dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto. Come ho detto al prefetto, ho vissuto dieci anni nel quartiere Tamburi dove i nostri figli sono stati assediati dall'inquinamento. Io per prima mi sono ammalata, è un anno e mezzo che combatto contro la leucemia e quindi vivo sulla mia pelle le conseguenze della fabbrica. Conosco benissimo il reparto dove i malati sono in continuo aumento. Ho ricordato il piccolo Lorenzo Zaratta, saluto il papà e la sua famiglia nel quale sono state ritrovate tracce di piombo e metalli pesanti nel cervello e tantissimi bambini continuano ad ammalarsi. Saluto le famiglie, i piccini dell'ospedale del reparto pediatrico. Le evidenze scientifiche sono gli occhi di tutti. La città soffre non solo per la salute ma anche per la disoccupazione. Io ringrazio gli studenti che sono qui oggi. Ci sono donne con le quali io ho parlato, amiche che mi dicono che se potessero tornare indietro non metterebbero al mondo i loro fini in questa città o che rinuncerebbero a fare una famiglia per la paura di ammalarsi. E quindi se arriviamo a pensare questo vuol dire che come umanità abbiamo fallito. grazie ci vogliamo un mondo di bene ciao Celeste anche io ciao ciao ciao